L'onorevole Carlo Sibiglia ha incontrato i 29 lavoratori del mercatone 1 di Mirabella e Clano. Obiettivo quello di fare il punto della situazione e lavorare tutti insieme affinché si possa trovare una soluzione percorribile per riportare al lavoro i 29 addetti. Già, perché la situazione relativa al punto vendita di Mirabella e Clano è piuttosto complicata. Quella struttura non è di proprietà del marchio ma in affitto e dal giorno della chiusura è stata completamente svuotata della merce rimasta. L'intera catena nazionale è in vendita per 280 milioni di euro. C'è un bando che scade il 7 settembre ma sul quale, ha detto l'esponente Irpino dei 5 Stelle, nell'incontro avuto con i lavoratori non bisogna fare affidamento perché andrà a deserto. Questo però non vuol dire che la soluzione non ci sia. Ci sono comunque delle buone possibilità a livello commerciale che la questione si possa risolvere. Il problema è che sicuramente non si risolverà in questo primo bando perché questo primo bando che è stato costruito dal Ministero dello Sviluppo Economico in concomitanza con i commissari fallimentari è molto rigido e anche dei profini di impugnabilità. Quindi sostanzialmente un bando che richiede di sprelevare tutti i punti a 280 milioni di euro, oggi addetta di tutti gli addetti ai lavori è praticamente impossibile da non andare a buon fine. Però siamo fiduciosi che si riesca a trovare una certa soluzione, sperando, e noi ci batteremo per quello che è possibile, di tenere aperto anche il punto chiaramente di Mirabella e Clano con il relativa ai lavoratori che ci sono interessati. Intanto però scade la cassa integrazione a gennaio. Bisogna essere bravi nel periodo che va da settembre a gennaio a trovare delle soluzioni. Io mi muoverei in questo senso, anche la mia visita oggi qui è per discutere con i lavoratori, anche di riuscire a fare qualche altro passaggio, ovvero di trovare delle alternative possibili che esistono e ci sono, anche perché nella fase successiva ci sarà una sorta di spezzettamento del bando. Quindi non saranno più i 70-75 punti a livello nazionale, ma anche il Ministero dello Sviluppo Economico tenderà a frazionare questo bando. Grazie. 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 Grazie.